Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, oggi altro competitive stories, incredibile, vedete alla mia sinistra c'è un individuo losco infatti ho il piacere di portarvi qui, niente di meno che il numero 1 in the fucking world su PS4 l'anno scorso su FIFA 20, il buon Diego Campagnani, Crazy Fat Gamer, Diego due paroline Buonasera Ribera, buonasera, grazie mille per avermi invitato all'interno di questo canale e niente, sono curioso di farmi le domande io sono curioso di ascoltare le tue risposte perché magari su alcuni c'ho già avevo delle idee su di te che comunque ci conosciamo da un po' però il rapporto un po' più stretto l'abbiamo messo da avere da poco quindi magari alcune cose non le so e quindi diciamo che senza perderci troppo in chiacchiere, visto che di chiacchiere ne faremo tante possiamo subito partire con una domanda che immagino avrai risentito e avrai risposto penso triliardi di volte ossia quando hai iniziato a giocare a FIFA e perché? allora ho iniziato a giocare a FIFA quando avevo tipo 5 anni con FIFA 97 e poi da lì ho sempre giocato a FIFA, mai giocato a PES in vita mia quindi non ho mai giocato, non ho idea di che cosa si possa provare PES poi sono passato a FIFA 2005 con Play 2, FIFA 2008, FIFA 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21 quest'anno quindi allora innanzitutto detieni un record perché fino ad ora sei quello che hai iniziato prima perché solitamente i più diciamo coraggiosi hanno iniziato tutti su FIFA 98 FIFA 97 non l'avevo mai sentito FIFA 97 è spettacolare ma che roba è? Su PC? no no, su PlayStation 1 c'era un bug con la rimessa laterale tipo potevi rimanere lì il tempo passava e andavi ai supplementari così no vabbè devastante, quasi come su FIFA 98 quando invece facevi le scivolate al portiere quello pure era epico vabbè quindi insomma, invece FIFA 10, 11 e 12 li hai saltati invece? 10, 11 e 12 sì perché non c'avevo la Play e andavo a giocare dai miei amici da FIFA 12 ok, beh top, quindi da lontano come tutti quanti hai iniziato e sicuramente ovviamente lo sai come lo sappiamo tutti il fatto che comunque FIFA essendo uno dei pochi giochi se non l'unico che a livello competitivo ogni anno cambia quindi ci impone di doverci adattare alle diverse meccaniche sicuramente avrai comunque degli aspetti del tuo gameplay che ti contraddistinguono quindi quali sono questi aspetti che ti contraddistinguono e soprattutto qual è la chiave ogni anno per cercare poi sempre di adattarsi per quanto riguarda gli aspetti come dico sempre la fase difensiva secondo me è la parte più forte del mio gioco quindi se ci dovesse essere un gioco che è molto CPU come quest'anno a fine gioco era un po' un problema per me oppure quando c'era Overload però alla fine bisogna sempre adattarsi e più o meno mi sono adattato col passare del tempo soprattutto grazie anche a Lamella che mi aiuta e grazie a tutta la gente di Clash che c'è intorno a me che mi può aiutare per qualsiasi soluzione e per quanto riguarda l'adattamento bisogna giocare, giocare e giocare ancora in modo tale da capire il gameplay, cosa funziona e cosa non funziona certo, magari appunto rispetto a Giovi che è stato l'ospite precedente che ha uno stile di gioco un po' più offensivo io per esempio mi rivedo molto nello stile di gioco tuo quindi la difesa pure io ripeto sempre che sia l'aspetto più efficiente del mio gioco infatti sono un po' preoccupato che quest'anno già ne ho visti di autoblock e di cose anche se quest'anno poi dobbiamo vedere come sarà il gioco come ogni volta quando esce, poi patch, cose, robe, lo sappiamo che giochiamo a 10 giochi diversi ogni anno fortunatamente non è uscita la demo fortunatamente non è uscita la demo perché secondo me non è uscita perché sarebbe stato secondo me inutile perché credo che sono arrivati lunghi coi tempi e sarebbe stata identica alla beta a questo punto perché altrimenti non ha senso esatto e visto che ci hai detto che comunque vieni da lontano ossia da FIFA 97 la prossima domanda è relativa invece alla tua carriera ossia quando hai capito che potevi diventare effettivamente un giocatore professionista o magari che volevi farlo allora ho iniziato a giocare tornei in giro così per i centri commerciali in supermercati a FIFA 12 il primo torneo FIFA 12 qua a Varese in un centro commerciale dopodiché mi sono un po' informato perché comunque mi piaceva partecipare ai tornei ho scoperto il VGP famosissimo tanti anni fa con FIFA 13 hanno fatto il campionato italiano in collaborazione di EA ho provato a qualificarmi non mi ero qualificato al campionato italiano alle fasi finali però dopodiché da lì FIFA 14 c'era il campionato italiano di Personal Gamer il primo di Personal Gamer a cui ho partecipato aveva vinto Fabio Denusso a Rimini e poi man mano giocando, giocando, giocando mi appassionava sempre di più questo mondo e poi ho iniziato pure a vincere quindi da lì ho scoperto tutto il da farsi ma diciamo che secondo me tu al momento tra quelli che sono rimasti diciamo in attività ma più in attività probabilmente sei quello con più esperienza perché magari anche lo stesso principe che la maggior parte delle persone associano un po' sai al competitivo perché diciamo avendo avuto quell'exploit ha fatto conoscere alle masse un po' che cosa c'era però veramente credo che da prima quando appunto i vari tornei erano nei centri commerciali eccetera te li dovevi andare praticamente a cercare da solo tu perché ormai Longwolf diciamo che si è dato un po' più al lato manageriale credo che sei rimasto veramente l'unico esponente di quei tempi si ancora Fabio Remuzzo l'unico però mi sa che mi sa che Fabio è arrivato comunque qualche un paio d'anni dopo di te o già c'era no no anche lui già giocava sì 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 ok quindi un po' è Matusalemme della commu e prossima domanda che probabilmente avrà forse da un lato una risposta un po' scontata magari dall'altro mi stupirai ossia qual è stato il tuo risultato più importante da quando sei videogiocatore e probabilmente ci possa arrivare però magari qual è stato quello che invece ricordi con più affetto perché ti ha trasmesso qualcosa che magari un torneo dove sei arrivato primo non ti ha lasciato allora vabbè quello che mi ricorderò per sempre è la FUT Champions Cup 2 a Bucharest che ho vinto la FUT Champions Cup di PS4 e quello che mi ricorderò di più è il campionato italiano di FIFA 18 a Napoli perché alla fine da lì ero dentro in clash da pochissimo quindi esultanze incredibili con tutto il team era una nuova emozione nuova esperienza poi da lì mi ero qualificato i playoff di FIFA 18 quindi quello lì sarà sempre un ricordo incredibile questo qui è stato anche il torneo preferito di Giovi non tanto vabbè per il risultato anche se comunque ha fatto ha fatto un buon torneo ma perché effettivamente poi posso parlare anche per me non avendolo giocato però avendolo vissuto comunque tra virgolette a bordo campo poi anche con quello che c'è stato fuori penso sia stata una delle poche volte in cui ho visto la community così unita tra di noi veramente è stato è stato simpatico è stato un anno di cambiamento quello lì è stato veramente un anno di cambiamento che poi si veniva da un anno molto intenso a livello di problematiche fuori dal campo invece là è stata come la sigla di un armistizio quindi è stato tanta roba e questa invece è un po' particolare perché tra virgolette con te che sei stato uno dei primi fa anche un po' strano però all'interno della community di FIFA sia passata che attuale hai avuto o hai tuttora un modello a quale ti ispiri non tanto o comunque anche al lato di gameplay ma a 360 gradi proprio come immagine di giocatore non mi ispiro assolutamente a nessuno io ho sempre seguito Boras Legend quando ancora non era conosciuto da nessuna parte quindi sempre FIFA 13 che aveva vinto il torneo a Las Vegas 200.000 dollari quando devi essere ancora maggiorenne per poter partecipare se no non potevi andare quindi seguivo Boras Legend Hugg ma ora come ora non c'ho nessuno da FIFA vabbè certo ormai ci sei dentro mani e piedi quindi sono gli altri che devono seguire te esattamente diciamo che allora diciamo questa sorta di podcast va in due questa era la parte delle domande che ti ho fatto io e te le ho preparate io adesso c'è una parte di domande instagram tra virgolette ossia che il popolo ha richiesto a gran voce erano le tre domande più spammate grazie popolo e il popolo come prima domanda ti chiede anche se anche qui già so probabilmente un po' la risposta ossia qual è stata la reazione dei tuoi genitori o comunque della tua famiglia quando hai deciso di intraprendere questa strada allora la mia famiglia mi ha sempre supportato per ciò che facevo perché comunque mia mamma mi ha sempre portato in giro per tutti i tornei fino a tre anni fa quindi era pure venuta l'anno scorso a vedere la Liga alla Madrid alla fase finale e ogni volta che comunque vinco un torneo mi qualifico a qualcosa c'è sempre esultante festa sì assolutamente perché comunque pur sempre come se fosse uno sport quindi se il figlio di questo genitore vince la Champions League il genitore è contento del proprio figlio a vincere la Champions League è già una risposta una risposta positiva c'è anche mia nonna comunque veniva a portare in giro anche nei tornei veniva dietro quindi è sempre rimasta dentro in questo mondo e capisce pure come funziona segue pure le partite minchia vedi la nonna è avanti ma pure mia nonna quando mi ricordo che quando feci i playoff a Amsterdam arrivavano foto di mia mamma mia nonna davanti alla tv che vedevano al torneo cose epiche bello sì sì veramente bello e una volta invece dismessi i panni del videogiocatore cosa credi che sarà il tuo futuro quale sarà la tua strada questa è una bella domanda a cui ancora non ci ho pensato perché comunque penso di giocare fino a 30 35 anni quindi si vedrà potrai farlo streamer potrai fare il coach potrai far qualcosa all'interno del mondo pur sempre sportivo quindi staremo a vedere quindi insomma comunque hai pensato alla strada anche magari a una strada manageriale vai in questo senso ti farebbe comunque piacere rimanere pure in un team come coach o gestore di settore e-sport eccetera assolutamente nel caso non dovesse così ci si rimbocca le mani investi i soldi da qualche parte e beh certo infatti sì giusto magari ci avremo un ristorante io te Daniel Feolli visto che Olli e Daniel vogliono abire un ristorante facciamo Alessandro Borghese ecco ultima domanda questa che solitamente è quella sulla quale i miei ospiti si dilungano un po' di più ossia quali sono i consigli che tu ti sentiresti di dare in questo momento ad un ragazzino che si vuole avvicinare a questo mondo sai perché ormai magari quando eravamo piccolini noi si diceva che cosa vuoi fare il calciatore adesso comunque i tempi cambiano magari vedono che il videogioco è una loro passione ed è tra virgolette un po' più accessibile cosa vuoi fare da grande il pro player senza sapere che comunque magari dietro c'è tutto un percorso che facile non è assolutamente soprattutto l'ultima parola facile non è questa cosa è la cosa più complicata perché comunque puoi impegnarti quanto vuoi ma secondo me è anche un minimo di talento il talento serve sempre posso giocare anche tutto il giorno ma se comunque non riesco a raggiungere determinati obiettivi è anche inutile provarci cioè ci posso provare ma comunque so che magari non posso arrivarci quindi puoi arrivare ad un certo punto ma magari non fare quel salto di qualità che ti può portare a far diventare un lavoro questo mondo quindi sì puoi arrivarci magari seguire le live mie di Ribera o di altre persone per poter imparare qualche skill o qualche trucco all'interno del videogioco però comunque sempre qualcosa di tuo di pura vera certo poi io lo dico sempre è sempre una buona cosa nella vita avere un piano B possibilmente anche un piano C alle volte soprattutto quando si è piccolini senza tralasciare troppo quelle che sono magari le cose che alla fine anche i genitori martellano perché soprattutto se si è piccolini immagino che stanno sempre lì i genitori col fiato sul colo a dire minchia domani c'è scuola i compiti questo quell'altro quindi occhio comunque a non buttare troppo tempo soprattutto se magari vedete che non riuscite a raggiungere certi risultati che insomma vorreste raggiungere esattamente quindi la scuola è importante anche se io non è meglio lasciare la parte questa cosa sì 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 facciamo finta di niente un dottore Diego io sono un gran dottore però la scuola è importantissima se dovessi tornare indietro farei sempre questa strada perché comunque sono stato un ragazzo molto fortunato posso ritenermi fortunato perché alla fine sono riuscito a trasformare in una passione in un mio lavoro e che comunque questo lavoro potrà andare sempre meglio per come sto andando nel settore sportivo però partendo adesso come adesso è veramente più difficile anche arrivare ad un livello come il mio o come il tuo o come Hollywood certo 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 e niente quindi alla fine Diego come ti avevo detto siamo andati con i tempi previsti è passato questi 15 minuti volati praticamente non ce ne siamo proprio resi conto io ti ringrazio per essere stato qui con me in questo in questo video grazie a te mi ripeto grazie a te lascio tutti quanti raga ovviamente i riferimenti di Diego di Instagram Twitch che ovviamente anche lui ormai stream da un annetto quindi lo trovate live solitamente la sera giusto esatto più o meno la sera ma anche al pomeriggio solitamente quindi pomeriggio barra sera e niente quindi raga a me non mi resta che salutarvi ci vediamo come al solito lo sapete ogni giorno live su Twitch qui più o meno una volta ogni due giorni con i video e niente un salutone a presto a presto salutiamo a presto a presto a presto